La semifinale è anche qui di Sintega Pro tra Padova e Barba. Dagli ordini dell'abito, signor Berti Manuel, l'assistente da Sonia e Berti, la musica rete di Quarto Mondo, il campione avanti. Per il Padova, con numero uno, Tono, due, Larissone, tre, Contessa, quattro, Tiepolato, cinque, Fornasar, sei, Ranucci, sette, Vecchiato, otto, Berto, nove, Sattin, dieci, Vedei, undici, Zalato, in panchina, a disposizione dell'antore, signor, signor Lorenzo, con dodici, Bacchini, tredici, Foramotto, e per il Parma, con numero uno, Rinaldi, due, due, Fantini, tre, Cugini, quattro, Balcina, cinque, Gimini, sei, Comoro, Doina, sette, Interzauni, otto, Spaccaferro, nove, nove, Rastelli, dieci, Camarà, undici, Schifano, in panchina, a disposizione dell'antore, signor, Orrone, Orrone, Stefano, con dodici, Ferrari, tredici, Cosi, quattordici, Rizzi, quindici, Bartoli, 16, Borzoni, 67, Faragiauri, 18, Gisset, 19, Casarini, 20, Chisoni.